Un quinquennio amministrativo sta volgendo al termine, noi vogliamo fare il punto di questi cinque anni di amministrazione a Rasero con il sindaco della città di Asti, ricandidato primo cittadino Maurizio Rasero, benvenuto, buongiorno. Grazie, buongiorno. Allora, siamo nel pieno del maggio astigiano che quest'anno si svolge finalmente nella sua pienezza per l'appunto, quindi diciamo che siamo quasi fuori dal tunnel del Covid, dopo due anni terribili si inizia a vedere una luce. Sì, due anni, due anni, cinci, dove abbiamo dovuto rinunciare a tante manifestazioni, a tante manifestazioni, a tante manifestazioni, a tante manifestazioni, e per quelle che si sono spostate ugualmente a realizzare l'abbiamo uscite in un altro modo, con forti manifestazioni con il miglior numero di persone, con le maschere, con le maschere. Tommaggio Stigiano inizia con la stima di fare i pagi, il giuramento dei produttori, che ha portato in piazza sia un secondo, un numero di spettatori, interpassionati, che non si vedeva da veramente tanto tempo. E' stato per un sindaco che era lì a leggere le frasi di rito e a compiere con tutti gli altri protagonisti, gli atti della tradizione, è stato veramente un motivo di grande soddisfazione e di orgoglio, l'ho vissuta emotivamente in modo particolare. Detto questo abbiamo assistito anche a dei fuochi che non si vedevano da tempo, complici anche il bel tempo, era veramente tanti anni, ancora prima della pandemia, che non si vedeva tanta gente così. Quindi che cosa vuol dire tutto questo? Sì, ci sono organizzati bene gli eventi, ma li si facevano prima, non è questa amministrazione che abbia cambiato forse qualche cosa, ma che c'è tanta voglia di ritornare a fare le cose che si faceva prima. La gente è stata troppo chiusa in casa, troppo tempo ha dovuto rinunciare alle cose belle che questa città ha da offrire, per cui di fronte ad un'offerta di iniziative importanti al ritorno delle tradizionali feste e degli eventi classici oggi del maggio astigiano, a breve saranno del settembre astigiano, la gente accorre e partecipa. Ci aspettano ora, nei prossimi giorni, in tutte le altre iniziative, sperando nel tempo che tenga per cercare di fare in modo che vengano nel miglior modo possibile. Questa tematica si ricollega poi anche a un discorso molto importante per la città, che è quello del turismo, che negli ultimi anni, nonostante il Covid, che è sempre il nostro convitato di pietra, comunque ha avuto dei riscontri molto importanti, degli sviluppi importanti, ad iniziare dall'unione dell'ATL con quella di Alba. Proprio così, le politiche sono uno dei fiori all'occhiello delle attività di questa amministrazione. Pensate che quando io sono arrivato a fare il sindaco, la nostra ATL e il sistema turistico astigiano stavano andando verso D'Alessandria. Già funzionava poco la nostra ATL, o perlomeno, diciamo così, perché se no sembra denigrare il lavoro, il difficile lavoro ed è l'ultima delle mie intenzioni rispetto a tutte le persone che hanno lavorato nelle ATL fino ad oggi, l'hanno gestita, però è evidente che il potenziale che abbiamo non era adeguatamente sfruttato, per tutta una serie di motivi, ci vorrebbero ore per entrarci e spiegarle. La nostra ATL stava andando verso Alessandria, un'altra ATL che non era famosa non nel mondo, ma neanche qui in Piemonte per l'attività che svolgeva. Quindi due zoppi che assieme non facevano uno che avrebbe imparato a camminare, ma uno che sarebbe caduto. E allora c'è stata una inversione di idea, di campo, chiamiamola come vogliamo. Mi sono confrontato con il sindaco di Alba, tra l'altro di un partito completamente diverso dal mio, quindi per dire che quando le persone di buonsenso si trovano e quando c'è voglia di fare interesse del territorio si possono mettere in piedi delle politiche e prendere delle decisioni che sono trasversali. Quindi Asti e Alba hanno deciso di iniziare a confrontarsi, a un certo momento si è visto che il matrimonio si poteva realizzare e pensate che oggi nella ATL di Langhe, Monferrato e Roero, dove le tre città più importanti sono Asti, Alba e Bra, ma come numero di abitanti la nostra è la città più grande di tutta la ATL, pensate che in quella ATL sono entrati più astigiani di quanti non ce li erano nella nostra ATL che era composta prima da sole realtà locali. Sono molti più i comuni della nostra provincia che hanno aderito, sono molti di più i soci privati che vi hanno aderito perché hanno trovato interessante il progetto e hanno immaginato che questo potesse avere delle ricadute sul territorio. Dall'entrata con quest'altra ATL sono scaturite delle politiche di promozione importanti che hanno saputo collocarci anche su mercati sui quali eravamo meno presenti, noi eravamo stati abituati a un turismo che era composto soprattutto da magari francesi, austriaci, svizzeri, quelli più vicini, poi magari qualche altro paese, ma in prevalenza quelli confinanti. Ebbene, nonostante anche la pandemia che ha fermato il turismo la scorsa estate abbiamo visto persone che arrivavano dal nord Europa, soprattutto dal Benelux, Olanda, Belgio, Lussemburgo, ma anche danesi, persone che hanno riempito la città, hanno riempito le nostre magnifiche colline, patrimonio dell'umanità. Quindi questo è un segno che abbiamo saputo promuoverci su quei mercati nel modo adeguato. Ed è chiaro ed è evidente ed è oggettivo che questo sta accadendo. In ultimo, sempre nell'ottica del discorso ATL, le chiedo una risposta a quanti lamentavano il fatto della mancata alternanza alla Presidenza, nel senso che il nuovo Presidente Mariano Rabino è ancora una volta espressione del territorio albese. Qualcuno diceva che ci dovrebbe essere un'alternanza tra l'Asti e Alba, per l'appunto? Allora, io dico due cose. Che è uno sbaglio affermare che non c'è stata alternanza, perché dopo molti anni di Presidente Barbero, che ricordo arriva da Bra, e abbiamo detto prima le città sono tre, oggi c'è l'alternanza con un Presidente che viene proposto da Alba. Asti, in base alle quote di capitale sottoscritto, ha diritto ad avere un rappresentante nel Consiglio dell'amministrazione. Prima c'ero io, oggi c'è un'altra persona. Per cui noi siamo presenti, siamo in grado di, non di coincidere perché non dobbiamo dire far più cose noi rispetto di altri, fare delle cose assieme. Abbiamo visto che promuovendo bene un territorio ce n'è per tutti. Però purtroppo c'è gente che sovente parla perché ha la lingua in bocca e non va a studiare, non va a verificare nel dettaglio le situazioni da poi poter dare una propria versione che sia, diciamo così, inconfutabile. E quindi, come dicevo, c'è stata una presidenza per lungo tempo espressione della città di Bra, oggi c'è una presidenza da qualche giorno che espressione della città di Alba. Per comandare, per contare all'interno di un qualsiasi organismo bisogna mettere del soldo, bisogna avere delle quote della partecipazione. Se Asti ha una quota che è minima nel suo complesso, perché Asti non è solo il comune, ma, diciamo, gli astigiani tutti assieme possono pretendere per quello che quella quota di partecipazione al capitale sociale gli consente. Io ho mai visto qualcuno che con il 10-15% di un qualche cosa comanda quel qualche cosa. Quindi, con la cifra e la quota di capitale sociale che l'astigiano ha, può permettersi di sedere dignitosamente al tavolo con tutti gli altri, avere l'autorevolezza di pretendere delle cose, di chiedere il rispetto come lo deve anche dare, e di fare assieme agli altri delle cose. Ma sicuramente non è una dittatura o non è la possibilità di andare ad imporre alcunché. Per cui, giusto che il Presidente sia espresso dagli albesi rispetto a noi. Ricordo poi comunque che il principale socio, cioè il soggetto che caccia maggiore quantità di denaro in questo sodalizio è comunque la regione Piemonte, che ha infatti un suo rappresentante. Io direi che per questa prima video intervista abbiamo affrontato l'argomento punto turismo, ringrazio in modo abbastanza esaustivo. Ringrazio il Sindaco Rasero per la sua disponibilità e rinvio lui e voi ascoltatori e spettatori al prossimo appuntamento fra una settimana in cui tratteremo ulteriori tematiche legate a questo quinquennio di amministrazione. Grazie ancora. Salute, salute.